Patrizia Porzio, progettista delle passeggiate leopardiane, a domenica il primo appuntamento tra tradizione e innovazione per la quarta edizione. Il progetto passeggiate leopardiane è promosso e organizzato dalla Fondazione Ville Vesuviane, però fidanziato con i fondi di coesioni, i famosi fondi di coesioni della Regione Campania attraverso l'Agenzia del Turismo, per la valorizzazione del nostro territorio ai fini turistici e delle eccellenze no gastronomiche di tutta l'area vesuviana. È un vero e proprio percorso letterario ed enogastronomico e si terrà tutte le domeniche a Villa delle Ginese, cominciando proprio dal 12 maggio fino a tutto giugno, fino al 29 giugno, dove ci sarà una grande festa dedicata a Giacomo Leopardi per il suo compleanno. Il poeta, oltre a essere questo raffinato scrittore famoso per il suo pessimismo cosmico, per quanto riguarda invece il cibo era molto ottimista perché era molto goloso dei nostri prodotti. Tanto è vero che ha lasciato una lista autografa con 49 dei suoi piatti preferiti e ogni domenica i nostri chef vesuviani con i produttori dell'area vesuviana realizzeranno uno di questi piatti. Il programma si fa con la tradizionale visita alla Villa delle Ginestre, una visita allargata per far conoscere i territori intorno a Villa delle Ginestre, un territorio che in passato è registrato la presenza di tanti umili illustri. Poi ci sarà un momento di teatro curato sempre dai volontari della Prologo, curato da Maria Pacilio assieme ad altri 3-4 attori, insomma parliamo di attori amatoriali ma di grande spessore. Poi ci sarà un momento gastronomico, domenica ci saranno dei cuochi, bravissimi cuochi che prepareranno degli gnocchi particolari con i pomodorini del piennolo, tutto del posto, dei gnocchi imbottiti di mozzarella, quindi aspetteremo anche questo momento per gustare queste delizie. L'obiettivo appunto è quello di riuscire a coniugare la tutela e la valorizzazione del straordinario patrimonio artistico e culturale rappresentato da tutte le ville vesuviane e in particolare noi siamo felicissimi e orgogliosi di dare il via a questa splendida iniziativa progettuale denominata Passeggiata Leopardiane che contribuirà a rilanciare e a valorizzare la splendida Villa delle Ginestre. In vista dell'estate quali sono i prossimi programmi, quali sono gli appuntamenti, qual è il palinzesto artistico delle attività della fondazione? Itinerari Vesuviani è un'iniziativa che è partita appunto domenica scorsa e avviene il coinvolgimento di tutti i quattro comuni in cui sono dislocate le ville vesuviane e quindi avremo questi incontri finalizzati a promuovere e a far conoscere le ville vesuviane dei quattro comuni. Al via nel mese di luglio il festival delle ville vesuviane, straordinaria iniziativa di grandissimo prestigio che contribuisce appunto a promuovere le nostre splendide ville vesuviane. Ma ancora un progetto denominato Migliodoro in scena è un bel segnale che diamo, la cultura deve unire e mai dividere e si è attivata una bellissima sinergia istituzionale e i frutti stanno arrivando.